buongiorno a tutti i guardiani io sono shark questo è l'angolo dedicato a destiny 2 come tutte le settimane l'appuntamento fisso è per il settimanale di casa bungie questo settimanale stavolta è dedicato interamente alle fazioni chi non arriva ovviamente dal primo capitolo come me forse non sa cosa siano le fazioni e quindi ve le spiego in breve una volta finita la campagna nella torre compariranno tre ceffi li potete vedere sullo schermo questi tre individui vi offriranno un'alleanza e come si può intuire in base ai favore che farete all'alleanza che avete scelto vi verranno date delle ricompense che potrete poi scambiare con delle armi o armature di fazione devo ammettere che questo è un incentivo in più per tutti i giocatori di mettersi sotto per poter comprare con poco o nulla le armi che ogni settimana verranno messe in vendita dalla fazione vincitrice infatti ogni settimana la fazione che vincerà nella corsa alle risorse metterà a disposizione un'arma particolare a un prezzo che per chi è dell'alleanza è ridicolo mentre tutti coloro che non ne fanno parte potranno comunque comprare la suddetta arma ma un prezzo esorbitante per intenderci l'arma messa in vendita costerà mille lumen per tutti coloro che invece non fanno parte di quell'alleanza e dovranno spendere 50.000 per essere più precisi ecco le tre fazioni orbita morta devo dire uno stile che mi piace parecchio alla fallout quindi molto post apocalittici guerra futura come dice il nome stesso molto più futuristici gli oggetti e dai colori sgargianti nuova monarchia altro stile molto particolare raffinato da cavalieri colori caldi e rassicuranti di seguito ecco i premi per il primo evento fucile da ricognizione dell'orbita morta fucile impulsi del culto della guerra futura arma da supporto della nuova monarchia c'è da dire che bungie si sta dando parecchio da fare non solo aggiungendo e rilasciando contenuti eventi e obiettivi che ovviamente fanno parte del gioco iniziale e che per ragioni che comprendo perfettamente hanno diluito nel tempo per dare a tutti la possibilità di godersi il titolo le prime settimane ma anche come bug fix e miglioramenti del sistema peer to peer si stanno dando parecchio da fare quindi complimenti alla bungie per il momento tutti questi settimanali mi fanno ben sperare per l'uscita del 24 ottobre per la versione pc con questo comunque è tutto se vi è piaciuto il video o vi è servito lasciate un like se non siete iscritti alla pagina iscrivetevi ci farebbe molto piacere concludo augurandovi buon divertimento e cercate di non morire troppo guardiani al prossimo video